L'ultima volta, circa 20 anni fa, salernitana casertana, domenica, non c'è la casertana che gioca la Rechi, ma c'è comunque un casertano e dunque si sarà un derby speciale per Giovanni Pascorello. Una festa bellissima e mi auguro che si possa ripetere domenica per noi della Versa, è normale che è una partita particolare, è normale che giochiamo con una squadra del blasone che attraverso la storia si sono conquistati, ma noi andremo lì a farci la nostra partita con tutti i rispetto, cercando di portare a casa un risultato assolutamente positivo. Tra Caserta e Salerno c'è un astio sportivo, da casertano cosa si proverà? Entrare alla Rechi e ovviamente ricordare tutti i derby che ci furono? Quella è storia, io la rappresento un po', la sento mia come difuso, come giocatore, come operatore, come dirigente, diciamo che lì ho già una decina di partite, già me le sopportate, già fanno parte del mio curriculum, per cui adesso è la prima con la Versa, è normale che è uno stadio bellissimo, uno stadio da Serie A, ma non ci dobbiamo assolutamente cadere nelle fantasie e in chissà che cosa. È una partita, sarà una battaglia, dobbiamo andare lì determinati per fare risultato, per fare bella figura, per portare il nome di Aversa sempre più in alto, per far sì che i nostri tifosi che domenica ci seguiranno diventeranno sempre più numerosi. E questo è il nostro obiettivo, cercare giorno dopo giorno, domenica dopo domenica, di conquistarci il nostro spazio. Con tutti i rispetto, che sia Salernitana, che sia Termo, che sia, andiamo lì per fare la nostra partita. Affidandosi anche un po' alla cabbala, a quel 31 gennaio del 93, signor Fermanelli al 93, la Casertana riuscì a pareggiare. Ovviamente Aversa conta di allungare a tre la striscia positiva. Ma noi stiamo lavorando e si lavora sempre per questo. Affrontiamo una squadra, noi stiamo ancora trovando i nostri equilibri, che piano piano, giorno dopo giorno, stiamo cercando di trovare al meglio della condizione tecnico-tattica. È normale che giocheremo con una squadra che, ahimè, è partita con i grossi a favore del pronostico ed è incappata in due sconvitte consecutive. Per cui sono curioso di vedere questa partita come andrà a finire.